Bella a tutti ragazzi, qui è NIN10 E oggi siamo con... Cioè, in questa partita siamo con Michael Che dobbiamo andare qua dentro Che non so manco da dove cazzo si entra Guarda quanto cazzo 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 Guarda, devo fare il giro di tutto lì salato Per andare da questo No, ancora di più ho Ancora di più ho Da dove cazzo si entra Ma che cazzo Marocchini pezzi di merda Cioè, voglio capire Ma una persona normale Ma come cazzo fai a fare tutto sto bordello Ah, ecco Grazie a te Ok, ho fatto Arresti a me E sai cosa, tu sarai la mia vita Perché tu lo chiamati, cazzo Cosa? Tu lo chiamati Trevor Un paio di giorni Ma non abbiamo parlato Niente Ma se non, quando Il comincia a spiegare Questioni Cosa 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 Oh, abbiamo problemi Oh, non c'è No c'è We're in it Together So If Your problemi Are My problemi Then I guess That means That My problemi Are sort of Your problemi Uh-uh Nope What if I lose my job? Someone comes Into my office Starts reading my files They'll see the things I did I know a lot of stuff I can cop a plea Get five years But you Fuck you You ungrateful prick I made your career Well And we better go about saving it together Because You and I both know We can't let it go to shit now What do you need This guy Ferdinand Karamoff The agency claims he's dead We at the bureau think they're full of crap We think he's being debris someplace So Apparently He has information which will put me and my superior Vabbè Andiamo avanti perché tanto Ho capito Devo andare a cercare a questo Che cazzo è? What we got John Doe White male Overweight In his late 40s Huffle cornet Let's take a peek The fat deposits on his hips and abdomen Suggest a fondness for bleeder burgers We're probably about to find one in his gut Still in its wrapper See the broken capillaries Back from the dead, motherfucker Come out Hands in the air Come on Might be in the other room Out of there Give it up That don't look right Guess you can't judge a corpse by its toe tag I found the toe tag Ferdinand Karamoff It's on some big black lady Definitely not your guy Okay The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak I got a guy who can cut the power to give you some help But you'll have to get upstairs if you're gonna get out You Freeze Hands up Everyone move back It's all a big misunderstanding Oh ma dai Ma non puoi fare sta fine di merda Hey, stop Put your hands on your head I should have stayed on the slab No comment, cazzo È difficilissimo You Freeze Hands up Fiat Troia They're coming They already died in once Today We have to ban unspan ok ma come cazzo fa ammazzarmi attraverso il muro ok 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 Let's go! Asshole! There's no way out! Just let me go! What in the world? Yeah! You died! I've got no way out! I don't know what's going on here, but I want the fuck out! You're done! You hear me? Carry on with your business! Stupid asshole! What the hell? Reloading! It's all a big misunderstanding! Motherfucker! Jesus Christ! You are this close to being shot! Fucking dick! Is this the way out? Shit! Need to take the stairs! We're on lockdown! Trust me! I'm not interested in the truth! Die! I should have stayed on the slab! Asshole! Hey! I already died once today! Hey! I already died once today! You need to get covered! We've got protocol! Aye aye aye! Where's your cover? I need to get covered! Rain ass fuck! This is fuck! 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 I dunno! I dunno! Let me go! M.O.S. in pursuit of suspect and vehicle! Let us! Let us! Cazzo, Cor! Macchina di merda! Minchia, verò, cazzo, Cor! A me pare valenta, verò già... ...mai che cazzo è che spara? Solo per sapere, va? No Hey Mike Yeah Hey we need to talk Quick Meet me at those oil derricks Just outside town Elboro Heights And make sure you're not tail Man that don't sound too good homie Look I'm on my way Hey The hell was that You know how many spooks I just ran into I'm sorry They're not nice people if that's a consolation What's going on There's a big target out there Something in the shadows The data algorithms are reading off the charts Whoever finds it The bureau or the agency Is going to get a big bump in funding Like I care about your funding I'm out Dave You're not I need you to meet my boss It's going to be downtown In the plaza Between the FIB And the IAA Buildings The IAA Buildings You fucking kidding me After the spooks I just had with those agency men Relax They won't be looking there They never expect an inside job The IAA For this mission M. I. L. 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 Ma speriamo quanti soldi ho 346.000 E un ricone di merda è diventato Anche se mezza sfasciata sta macchina Corre come uno schifo ancora Ehi Franklin Cosa sta succedendo? Tu devi andare fuori Ma non ho capito dove andare E allora prendi un viaggio Un viaggio lungo Cosa sta succedendo? Cosa, ok? Tu ricordi? Ti ho detto che conosco persone Vedi che guardano dopo me quando mi sono riuscita Tu hai fatto? Si, ho fatto Cioè, credo che ho fatto Ma non ho capito Jesus Christ, Franklin Ho tantissime storie Che non posso rimanere Ma non ho capito Mi sono pieno di capito Si, ma il tuo capito Mi sono pieno di capito Un'altra scuola con te Mi rende più money Che ho mai avuto Sì, credo che sono un grande Ma è la altra cosa Che non ho capito Quindi cosa è il problema Cosa è il problema Con il buro Il buon Il buon Cosa è un ragazzo Un ragazzo Un ragazzo Abbiamo fatto un ragazzo Un tempo fa Non è andato Non è andato come Che era Il ragazzo Il ragazzo Il ragazzo Quindi ho dovuto Il ragazzo Non è andato come Che non sarebbe Un'alberto Il regazzo Il regazzo Che è Ma come Querenca Adno Oh, sì 'si Che Ho 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 che non ti mi orgoglio. Ok? Non ho avuto a essere un angelo. Però se ti ci troviamo Trever O' Franklini, tu 24 mesi mi sono un angelo. Quindi come la situazione? Non è l'acquietto. F***. Comparo su brainstormi con due scambi. C Vince... Allora, guarda, guarda, ti giud bo mi... La cosa che vedo, Mosca, lo che mai posso farlo di aiutare. è una sentenza morta Franklin non ho cercato di ascoltare tutto questo se il buio non ti prende a te a te i morti sono solo un uccasso e non ho non mi sento che nessun uccasso pensare che è così uccasso mi prende un pollo, f*** di questo no, sei un buon figlio Franklin questo significa molto a me come ho detto sono un uccasso sono un uccasso ho trovato qualcosa per te, grande come i per te co con wic con wic per ragazzi per questo video è tutto, bella a tutti, iscrivetevi per la prossima, Dead Man Walking, bella.